Quando si parla di dieta mediterranea sarebbe forse opportuno specificare che si tratta di modelli di alimentazione mediterranea che si configurano come i più adatti ed efficaci nella salvaguardia della salute e nella prevenzione delle malattie, ma anche come modelli alimentari più sostenibili per il basso impatto ambientale, per il rispetto degli ecosistemi e delle biodiversità. Ma che cos'è un modello di alimentazione mediterranea? Consumo prevalente di olio e d'oliva, consumo elevato di legumi, consumo elevato di cereali meglio se integrali, consumo elevato di frutta e di noci, consumo elevato di vegetali, consumo moderato invece di latti e derivati, consumo da moderato a elevato di pesce, dipende dalle zone, consumo basso di carne, di prodotti carne e consumo moderato di vino se accettato. Ma poi c'è dell'altro, al di là del convivio c'è anche l'uso sapiente di erbe, spezie e aromi che fanno parte del nostro modello di alimentazione mediterranea, quindi basilico, rosmarino, menta, origano, salvia, maggiorana e poi l'uso del peperoncino o altro. Allora, l'atto del mangiare ha anche una valenza culturale o è solo un fatto fisiologico e naturale. Il rapporto tra cibo e cultura esiste in modo inequivoco e difficile e riconoscerlo ed evidenziarlo, se è possibile, con chiarezza sufficiente, restandone spesso sorpresi. Allora, pasta alla norma mi viene in mente, o pasta con le sarde, o trenette al pesto. Cioè, se uno pensa a questi piatti, non è forse il momento in cui la cultura interviene sulla natura, ma è certamente il tentativo di farlo e devo dire anche con un certo successo. Ma non è immaginabile una pasta alla norma senza il basilico, non è immaginabile una pasta con le sarde senza il finocchietto selvatico, non è immaginabile delle trenette al pesto, non sono immaginabili le trenette al pesto, se non con basilico, aglio, eccetera. E allora, credo che tutto non debba ridursi a erbe o aromi, perché coloro che hanno inventato questi accostamenti, quelli che poi hanno tramandato ad altri questi aromi, questi sapori, hanno fatto sicuramente cultura, forse arte. Sentire gli odori o guardare un piatto di trenette al pesto, sono sensazioni che prima di giungere all'atto finale del mangiare, ci fanno intraprendere un viaggio. Si segue un itinerario attraverso i nostri organi di senso che è stato predisposto dalla nostra memoria e che ci rimanda ad un passato che è cultura, nel nostro caso cultura mediterranea.